Il prossimo brano che vi proponiamo si intitola La Salle Schulstil, l'autoree anonimo, la lingua tedesca, quindi l'origine è germanica. La Salle Schulstil, l'autoree anonimo, la lingua tedesca, quindi l'origine è germanica. La Salle Schulstil, l'autoree anonimo, la lingua tedesca, quindi l'origine è germanica. La Salle Schulstil, l'autoree anonimo, la lingua tedesca, quindi l'origine è germanica. La Salle Schulstil, l'autoree anonimo, la lingua tedesca, quindi l'autoree anonimo, la lingua tedesca. La Salle Schulstil, 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 l'autoree anonimo, la lingua tedesca. Grazie.